Si avvicina il 13 settembre, giorno in cui gli studenti abruzzesi torneranno sui banchi di scuola. A Montesilvano è tutto pronto, ha dichiarato il sindaco De Martinis. Tutto rientrerà nella normalità e tutto sarà in qualche caso anche migliore di quello che è stato il passato. Per quello che riguarda anche il trasporto è tutto organizzato, quindi ritengo che tutto vada per il meglio. Il distanziamento sociale, imposto come misura anti-Covid, ha acuito la carenza di spazi all'interno degli istituti scolastici. Come nell'anno passato, per alcuni studenti di Montesilvano, i primi 15 giorni di lezione si svolgeranno al Paladin Martin, dove l'hub vaccinale chiuderà il 9 settembre rimanendo aperto solo per i richiami del vaccino. Poi però, in accordo con presidi e genitori, gli studenti torneranno nei pressi delle scuole in appositi container che fungeranno da aule. Già dallo scorso anno, a causa del Covid, abbiamo voluto trovare delle soluzioni che potessero superare le prescrizioni legate alle distanze, a tutto quello che riguarda questa pandemia. L'anno scorso abbiamo trovato soluzioni alternative in quelle del Paladin Martin, per quello che riguarda l'istituto Ignazio Silone. Quest'anno, d'accordo con il dirigente scolastico, ma anche con i genitori, abbiamo ragionato all'allestimento di container per riportare gli studenti nella loro sede naturale, in via San Gottardo, in strutture che garantiranno tutto quello che necessita ai ragazzi. Ma c'è anche una novità in positivo, che riguarderà la scuola di Via Reno, che dopo una fase iniziale, 15 giorni di permanenza nella vecchia sede, si sposterà in quella di Via Adda. Per quello che riguarda le altre strutture, diciamo che tutto sommato siamo messi bene, quindi diciamo che se devo guardare il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, lo vedo mezzo pieno. Grazie.